Festival internazionale dal cuore della Sicilia, il folclore del mondo, con l'Italia, Filippine, Bulgaria, Bolivia, Serbia, dal 23 al 30 agosto, Sutera e Campofranco. Gli eventi estivi ancora in corso erano iniziati lo scorso 23 agosto, allora quando nelle ore serali nel piazzale Zucchetto si è svolto il gioco sociale, il cerchio delle intenzioni. Seguiti il 24 sera nella piazza Sant'Agata con lo spettacolo Folk Filippine, il 25 nella piazza della Repubblica con lo spettacolo Folk dei Gruppi Serbia e Bulgaria. Nella mattinata nella chiesa Sant'Agata c'era stata la messa per la fratellanza fra i popoli. La giornata del 26 ha registrato lo svolgimento del convegno al Museo Etno-Antropologico, seguito dalla fiaccolata della pace e della fratellanza fra i popoli attraversando le vie di Sutera. Successivamente continuata con la spaghetta dell'amicizia in piazza Sant'Agata. Il giorno 28 oggi il programma prevede nelle ore serali alle 21 e 30 un momento ludico con Balliamo Insieme il Folk. Il giorno 29 in piazza Sant'Agata spettacolo Folk finale e i saluti istituzionali. La giornata conclusiva del 30 agosto è prevista in piazza Zucchetto la cena interculturale. Alla fiaccolata hanno partecipato le autorità locali con il sindaco di Sutera Giuseppina Catania e il sindaco di Campofranco Saro Nuara. La fiaccolata della fratellanza fra i popoli. Grazie. 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 Allontanatevi un po' perché non dobbiamo l'effetto. Non dobbiamo l'effetto. No, uno, 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 uno che si è vicino. Ok, dai, vanno a farlo a lui. No, deve, deve. Ok, next, philippini, come on. Everybody put the flames into the pot. Everybody, everybody put the flames in. Eh? Non, ok. Excuse me... Prezza, si, vi ci sono. A andremo. Dai, non ci sono. Av Guardanti. Viハハno! Entriggite, te ci sono. Sì, vieni qui. Sì, vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui.